Questa partita da dove parto? Io sono razionale, seguo le Corbusier, quindi parto dalla storiografia prima e dalla scelta del metodo con cui costruire l'elemento, il palazzo, la villa, il grattacielo e poi cerco i pilastri principalmente e poi casomai comincio a cercare anche che tipo di vetro o che tipo di colore usato. Credo che Fabrizio abbia la stessa idea, non so se la stessa cultura architettonica però è sempre uno che ha lavorato con questi obiettivi, sulla quotidianità, con un progetto finale sapendo che con la quotidianità, con il lavoro sulla quotidianità, sui risultati quotidiani può arrivare ad ottenere il miglior edificio, il miglior elemento possibile.